5, 6, a fondo, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, base al lato e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 1, 2, 3, 4, base avanti, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 3, 4, al lato, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, con gli affondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a fondo e caschè 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, mi apro 4 e preparo la figura 1, l'avvolgo cammino io, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e insieme mi avvolgo 5, 6, 7, 8, sciolgo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apro, 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 apro e base 1, 2, destra con destra, cammino in avanti, 1, 5, 6, 7, ancora 1, 5, 6, doppio donna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a me, merengue, 1 1, 2, merengue, 3, merengue, slight Ragazzi, Carmine e Passore hanno una bella di sapore differenza e grazie a tutti